Gli Stati Uniti hanno creato il problema Guantanamo, un Presidente degli Stati Uniti si prepara a risolverlo. Dobbiamo sapere se l'Unione Europea avrà una qualsiasi forza e capacità di giocare un ruolo. L'Unione Europea deve collaborare, i nostri Stati membri devono accogliere i prigionieri, come i prigionieri uiguri, senza sottostare alle pressioni della Cina. Se non facciamo questo rischiamo di essere irrilevanti anche nella fase della chiusura di Guantanamo. Può essere l'inizio di un nuovo lavoro per l'emersione della verità, delle responsabilità dei nostri governi nazionali, il governo portoghese per esempio quando era il Presidente Barroso, delle nostre responsabilità rispetto al fatto che sia stata lasciata cadere la proposta di esilio a Saddam Hussein, proposta che era l'unica alternativa alla guerra e che i nostri governi insieme a quello degli Stati Uniti hanno lasciato cadere. Grazie Presidente.